Il mese della formazione si propone anche quest'anno quindi di parlare di cose che vediamo tutti i giorni e che forse non sappiamo interpretare e che sicuramente avranno un impatto sul nostro futuro. Ma essere il mese della formazione e incontrare le persone per me è molto importante perché abbatti quei muri. Oggi andiamo sempre verso una società molto intermediata dai social network, dagli schermi, dai telefoni, dai messaggi. La verità è che la cosa più importante oggi è tenere ancora il contatto con le persone. Il contatto con le persone le tieni solamente incontrandole. Loro capiscono te e te capisci loro che è ancora per me più importante e più stimolante. Abbiamo pensato di parlare delle cose che succedono tutti i giorni con una chiave di lettura per interpretare il futuro all'estero con un visiting tour in Germania o in Francia, lavorando con tavole rotonde, eventi che parlano delle cose più diverse dalla finanza alla logistica, anche alla presentazione dei nostri libri, ad esempio. Il mese della formazione quindi è per tutti, è un'occasione per tutti per incontrarsi, per raccogliere idee, per ragionare su che cosa si può fare per migliorare nella propria professione o immaginare un futuro diverso. Ci sono ragazzi che vengono dalle scuole, dall'università, che si incontrano con imprenditori o manager. Quindi è assolutamente un'occasione democratica per parlare in un territorio in cui noi siamo presenti e vogliamo esserlo sempre di più da un punto di vista culturale. Grazie a tutti.